Musica Ci troviamo qui nel parco di Busnago dove c'è il monumento ai caduti e siamo davanti a tre bellissime signorine, componente della banda di Busnago. Vediamo corpo musicale. E qui abbiamo la signorina. Tosca Brugali. Di nome? Tosca. Tosca. Rachele. Monica. Monica. Siete giovanissime, è da molto che suonate nella banda? Io ho due anni. E tu? Io ho quattro. Quattro? Ah, perciò. E strumenti? Io suono la tromba. La tromba? La rinette, la soffrono, con trafino. E la musica l'avete imparata nella banda? Sì. E cosa volete fare da grande? Io non so. Cosa sei? Studentesse siete tutte? Liceo. E quindi? Liceo? Liceo. Liceo? L'istituto tecnico io. Ah, istituto tecnico. Ma su che cosa? Chimica io studio. Com'è? Chimica studio. Ah, chimica? Eh, beh, insomma, chimica. Fate le prove settimanalmente? Giovedì sera ci troviamo, dopo alle 9. No, alle 11. Perché siamo comunque, sono quasi tutti adulti quelli che suonano, quindi tornano dal lavoro e alle 9 ci troviamo. Vestiti di giallo, che qui hanno un certo marchio, protezione civile. E questo un altro? Sì. Ari. Allora, siamo davanti a, come ti chiamano? Questa è la nostra associazione qui. Ah, protezione civile comune di Busnago. Di nome? Alberto. E tu? Ivano. Ivano, e siete quindi della protezione civile di Busnago. Busnago, sì, siamo volontari. Eh, io non so niente, come funziona questa protezione civile? Noi veniamo attivati in caso di calamità, veniamo chiamati dal sindaco innanzitutto che deve attivare in base a quanto sancito dalla normativa e veniamo attivati e in base a una legge dello Stato possiamo lasciare anche il posto di lavoro e recarci per fare l'intervento. Siamo volontari, facciamo lo scopo del volontariato. Vabbè, un rimborso spesa, a volte penso la vetano. No, ci viene garantito la giornata che non effettuiamo sul posto di lavoro. In caso, per esempio, il nostro responsabile operativo è stato in Abruzzo, è stato in Giglio, ha fatto parecchie attività, insomma. Come si chiama il vostro responsabile? Il nostro responsabile operativo è Dario Scotti. Dario Scotti. E avete una sede qua a Busnago dove vi trovate? Sì, proprio nelle nostre spalle. Ah, sì, che c'era la sede, eccolo là. E quando vi trovate? Che giorno? Noi ci troviamo spesso, certamente ci troviamo il giorno di sera oppure con le unioni straordinarie in base agli eventi che dobbiamo andare a coprire. Per esempio, i nostri colleghi oggi sono anche alla corsa, c'è a Roncello. Ah, c'è una corsa a Roncello. C'è la corsa fodistica, c'è anche questo sistema. Ah, sì, è vero. Ivano, ma avete, non so, dei gradi, non so, com'è che funziona? No, gradi non ce ne sono, ognuno cerca di fare il meglio che può fare. Ma c'è, quindi il responsabile, non c'è, non so, il comandante, si chiama comandante? No, una vera gerarchia non c'è. Non c'è, sì. No, siamo tutti volontari, abbiamo un responsabile operativo che è Dario Scotti, come abbiamo detto, noi siamo tutti volontari e si decide in merito poi alla normativa vigente. Tu non mi sembra che hai una faccia busnaghese, vieni da fuori Busnago? No, io abito a Busnago dal 99, sono qui dal 99, insomma. In che zona di Busnago abito? Alve Gioioso. Ma sei nato a Busnago? No, no, sono nato nella provincia d'Italia. Ivano, tu invece sei nato a Busnago, sei di Busnago? No, vengo da zona Montsebrianza e da 15 anni che abito qui a Busnago. Ah, ho capito. Insomma, qui siamo tre forestieri. Va bene, mi ha fatto piacere incontrarvi e possiamo proseguire la collaborazione. Una sigla, Aria, Associazione Radio Amatori Italiane. Sì, siamo ormai, in Italia siamo ancora 30.000, io sono un radiomatore, l'unico qui a Busnago, faccio parte della colonna mobile, veniamo attivati dal prefetto direttamente in caso di calamità. Facciamo i collegamenti tra le prefetture con le nostre seguente, non decorte. E può convivere, diciamo. Certamente, con la protezione civile l'Aria è attivamente impegnata, tanto è vero che io mi vanto di essere anche socio dell'Aria. L'Aria è ente morale dal 1927. Ora, scusa Alberto, vedevo, questa è la vostra sede, giù in fondo di là, e vedo che ci sono delle antenne, sempre per la questione del radiomatorio. Della protezione civile, sì. Ma a radiomatorio e protezione civile, cioè tutti i servi di queste antenne. Noi radiomatori ci serviamo prettamente delle stazioni che abbiamo a casa, ognuno di noi ha una propria stazione che è dichiarata al Ministero. Però in protezione civile si usano. La prima antenna a sinistra è quella per i 27 MHz. Queste con due cose verticali piccole. Diciamo, quelle che hanno anche i camionisti, quella più bassa al centro è per le 144 MHz, la radiomatoriale, e questa avanti è per le 43 MHz, che sono frequente e riconosciute la protezione civile. Buongiorno, oh ciao Carletto, sto facendo delle piccole interviste a dei ragazzi di una certa età. Lei mi sembra un ragazzo disposto a parlare, parli adesso o taccia per sempre? Sì, lei come si chiama di nome? Io, Butti. Ah, Butti, di cosa si è occupato a Butti? Ma che lavoro faceva? Io, Falegname. Ah, Falegname. Sì, poi ho lavorato all'Ercole Marello. E dove ce l'aveva la bottega? Qui o sotto, o dipendente? Sotto a Padrone, sì. E dove? Qui vicino a Busnago? Sì, un po' qui, un po' fuori. Ah, adesso è felicemente pensionato. Eh sì, qui. Eh beh, chi lo è? C'è un bellissimo qui che era un bambino. Ah, però, e come mai è andato a finire proprio a Busnago? Perché mio padre lavorava qui. Ah, ho capito. Perché io, diciamo, io sono della provincia di Comodinale. Ah, provincia di Comodinale. Ah, provincia di Comodinale. Da fuori Mestre. Cosa si ricorda di Busnago? Ma si ricorda che qua, in questo spiazzo, c'era qualcosa che veniva chiamato con un nome particolare? Qui era un'aia che... Eh, le rum. Eh, le rum, che veniva anch'io a farci calmerlo, il formento. Lei parli pure in dialetto che è bello. Il melgot. Il melgot. E poi andavano a pelare il melgot nel cascinotto. I bricolini facevano nelle cascine. Però lei, essendo artigiano, diciamo, non l'ha vissuta la vita contadina, ecco. Ah, sì. E quindi si ricorda anche di pelare il melgot nel cascinotto, o no? Sì. Ha partecipato anche lei a fare questa... Alla sera si andava... Ma perché alla sera proprio? Era il l'oeuf. Ah, il l'oeuf. Con quell'attrezzo appuntito. Che è quel... Come si chiamava? L'era... Il cavic. È il cavic. Il cavic che aveva quella cordicella che si legava... Che si apriva la punta. Volevo chiedere qualcosa a questo giovanotto. Lei invece è di Busnago? È nativo. Come si chiama di nome? Nino. Ah, Nino. Ah, faceva il prestinaio. Eh, sì, l'era... Ma quale dei due? Quello d'angolo, quello dopo? Quello dopo qui. Ma non è corti lei? No. Sono lungo. Ah, no. Non sono... Eh, difatti vedo che è un gigante. E quello è più piccolo. È corto, ma è più piccolo. La signora è sua moglie? Sì. Ah, sì. Ma quindi invece di cognome come fa? Vimercati. Vimercati. Sono i Vimercati. Sono qui da solo. Ah, da solo. Io a voi. Sì. Faccio pensionato come loro tre. Ma vive qua a Busnago, però. Ed è nato anche a Busnago. E cosa ha fatto? Il prestinaio da piccolo? Gli chiedevo prima al signore qua questa... Le romo che l'ha già detto lui. Ma com'era in dialetto? In dialetto come si chiama? Le rom. Le rom. Le rom. Era le rom. Si ricorda? Lei l'ha fatto in militare? Cioè lei è riuscita a evitare questi due anni? Lei dove l'ha fatto in militare? A Firenze. Ah, a Firenze, insomma, sì, è stata anche un'esperienza, penso. Sì, sì. Cioè è partito da Busnago, avrà fatto il carro da qualche altra parte e poi... Ah, a Siena. Da Siena, dopo Siena siamo trasferiti lì a Firenze. No, ho capito. Eh, va bene. Buongiorno. Lei è di Busnago? Sì. Di che cosa faceva a Busnago? Adesso è pensionato, immagino. Di che cosa... Camionista, sui camionista. Ah, camionista, quindi ha girato il mondo lei, come... Ma lei è nata a Busnago, è di Busnago? Di Busnago, fratello. Erano... Che lavoro faceva suo papà? Lavorare alla terra. Ah, lavorare alla terra. Ah, ho capito. Lui sbagliò, no. Ma non aveva però una terra propria, lavorava per conto d'anno. Ma no, la sua, la sua. Ah, la sua. E lei non andava a trovarlo lì nella terra? Sì, è come il santo... Sì, è quando raccoglieva il melgot, non andava poi a pelare il melgot nel cascinotto. E come si chiama di nome lei? Giuseppe. Giuseppe, ah, Biffi Giuseppe. Lei di che classe è? Del 24. Ah, del 24. Ha fatto il militare da giovane? Da Pola si sa fare. A Pola? Sì, sì. Ah, faccio. E si ricorda qualche... No. Qualche proverbio busnaghese? No, no, no. Ma io ho preso l'entrata, l'ho finito. Ma perché è finito? Lei vedo che sta bene, ha gli occhi azzurri. Eh, no, non c'è niente. Ah. Non ho parlato ormai. Eh. Ma lei vive da solo oppure a qualche... Da solo io. Ah. E da mangiare si fa lei da solo? A Portenet. Ah. A Portenet da mangiare. Gli dico vado in giro, no? Ah, ah, ho capito, glielo posso. No, no, no. Pago. Tu fai parte di un'associazione? Eh, in quale? In quella... Ah, come si chiama? Pregge d'Arte. No, 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 no. Ah, scusa, Presidente. Ma io c'ho anche da comparare. Per il blog Busnago e dintorni. Io non sapevo che ci fosse questa nuova associazione. Pratico che è un'associazione giovanile e culturale. Culturale. Cercate di fare qualcosa nel campo dell'arte che fanno... Hai detto niente. Il prossimo impegno che abbiamo è Busnago Baccano 2012. Sì. 31 agosto. Ehi, giovanotto. Scusa. 31,8, 1,2 settembre. E si farà una, una, tre giorni di musica. E dopo di che si vedrà qui. Tre giorni di... Quindi è arte anche la musica? È arte pure quella. Ma siete musicisti, artisti? Io sì, io sì personalmente. Poi gli altri... Ma cosa suoni? Che strumenti si chiama? Ma basso a livello amatoriale? No, no, no. Fai parte di un gruppo, della... Sì, anche un gruppo. Ma in una banda musicale? Esatto. Rock. Rock, punk rock e roll e niente. Ma come si chiama la banda? Avete qualcosa su YouTube? Sì, certo. Come si chiama? YouTube di Crux. C-R-O-K-S. Come si chiama esattamente l'associazione? Tracce d'arte. Tracce d'arte. E tu come ti chiami? Marcello. Marcello. Di cognome? Buznago. Crozzi. Buznago. Ma Buznago importato oppure... No, no. Ma lui è Doc. Ah, Doc. Allora vedi che... Vedi che ne ho trovato uno giusto. Com'è il cognome? Com'è il cognome? No, Barossi. Ah, Barossi vorrei vedere. E il nome? Giovanni. Giovanni. Associazione Bambini Molelli. Ah, non è che problema. Quindi hai fatto l'idraulico? O fai ancora? Perché sei giovane. No, dopo 30 erotiani... Cosa ti ricordi da bambino? Qualche gioco a Buznago oppure qualche filastrocca? Va poco. Ma che giochi facevate? Quanti anni hai tu? 46. Quindi non c'erano più i giochi di francese. Previsione c'era poca perché... Era quello che era. Oh, è questo giovanotto invece. Anche lei di Buznago? Sì, è. Come si chiama lei di nome? Giuseppe. Giuseppe, di cognome? Colombo. Ah, Colombo. Eh, un cognome raro. Un cognome raro. Mi parto l'America. Raro. Una volta... Lei è nata a Buznago? Adesso dopo... Sì, è nata a Buznago. Ah, è nata a Buznago. Ma sono metà e metà. Sì, sì, sì. Lombardo e Friulano. Ah, Friulano. Ma chi è? Papà? Parte di madre. Ah, Friulano. Ma faceva parte forse degli sfollati della ex Jugoslavia, no? No, era venuta qua a Milano a lavorare. Ah, sì, sì. E ha conosciuto uno a Buznago? A Buznano. L'ha conosciuto là? Cioè, ha trovato l'angolo, tac. Eh. E poi sono venuto ad abitare a Buznago perché aveva... No, mio padre era proprio un attivo di me. Ah, ecco. E tu invece di che classe sei? 49. Se già i giochi di strada che... Perché lui, per esempio, lui già... Non facevano molti giochi di strada. Io, sul sagrato della chiesa, giocare ai tollini. Ah, i tollini, i tappi delle... Ma come funzionava questo gioco qui? Eh, mettevi sul gradino, attacchi e dovevi buttare giù. Ma cos'è? Ah, cioè, ognuno aveva il suo... E dovevi buttare giù l'avversario. Ah, cioè, il tollino dell'avversario, fallo cadere dal gradino. E tuo papà era contadino oppure lavoratore di fabbrica? O l'uno e l'altro? Sì, era contadino e lavorava a M Milano, azienda elettrica municipale. Gianni, Gianni Crippa. E quindi sei ormai un busnagese? Ah, un busnagese, se non dico doc, quasi. Sì, sì, sì. Prima dove abitavi? Prima ero di Agrate. Ah, Agrate, vabbè, quindi abbastanza vicino. Ma fai parte di qualche associazione a Busnago? Allora, adesso soltanto no. E facevo tutta materia fiscale. Perché sei il ragioniere? No, sono un perito elettronico, però... Beh, ha cominciato a piacermi quel discorso lì, perché sono da sovante, vado anche ancora dentro. E quindi, col computer, comunque ti arrangi, però. Non ti è capitato di inciampare ancora in questo nostro blog che si chiama Busnago ed intorni? No, no. Perché è una creatura... No, no, da quando sono dato in pensione chiediamo così, ho rotto i punti con la tecnologia, perché prima mi ha... Eh, certo. Vabbè, adesso che c'è questo contenitore, questa piazza digitale, questa piazza ce l'hai di internet a casa. Quindi io voglio fare una piazza digitale che poi potrebbe essere anche un cortile, perché anche il cortile in avanti ha... Com'è il nome? Giuseppe Fiorentino. Ah, Fiorentino. Che funzione hai qui? Sì, adesso sono il presidente del... Ah, il presidente, eh. E... Beh, seguo anche gli agenti di volontari, con l'organizzazione. Sì, e invece nella vita cosa segui? Le scuole? No, no, i lavori. Ah, sì. Tu com'è il nome? Come Aurilio Riva. Ah, ma Aurilio? Aurilio. Ma di Busnago. Certo. Ma io faccio parte anch'io del direttivo del... Del direttivo, sì. Tu sai che bella faccia che hai il tuo signore? Sei busnaghese o adottivo anche tu? No, allora, io sono di madre busnaghese, di padre di Porto Dazza. Ah, Porto Dazza. Sono andato a Porto Dazza, però praticamente ho fatto il primo anno di asilo a Porto Dazza. Poi sono ricomentato. E quando mai i tuoi genitori sono venuti qua, hai detto, per via del matrimonio? No, non per via del matrimonio. È che loro si sono sposati, ma mentre stavano costruendo casa qui a Busnago sono andati in affitto a Porto Dazza. E tu ne hai approfittato per nai? Ecco. E poi, terminando la casa, sono andati qua. Ecco. Sono andati sulla trasferta per i quattro anni in cui sono andato i due. Va bene. Ma ho sentito prima che siete reduci di un... Sì, domenica, domenica 22, sono andati a Chiari. Sono i campionati regionali. E come vi siete... Ma... Come è andata? Sanno musici e angiastetici, abbiamo visto. E poi siamo andati a secondo al singolo, secondi nella piccola squadra e secondi nella grande squadra. Che cosa vi è andato? Dei cagliardezzi? Abbiamo medaglie. C'è una ragazza... Ah, medaglie, medaglie. Medaglie e coppia. Questa è una delle medaglie che avete vinto adesso, in questa ultima... Il campionato Lombardo. Questa è? Ah, sarebbe il... Il nono campionato Lombardo. Sì. Ah, quindi non nazionale. Adesso questo è Lombardo. Lombardo. Allora, siamo davanti a... Caspanni Sergio. Sergio. Faccio parte del consiglio di direttivo degli spandiratori di Torre dei Germani di Postago. Dicevamo che sei... Fai parte del... Consiglio, hai qualche figlio, immagino. Sì, ho una figlia all'interno che fa parte dei musici. Ah, musici. Tra l'altro in questa associazione che è dedicata appunto a tutti i giovani è anche un'associazione dove si incontra i giovani. Infatti mia figlia ha incontrato un ragazzino qui all'interno del gruppo che fa lo sbandiratore, per cui quasi tutte le domeniche quando ci sono gli eventi andiamo con tutta la famiglia. Tra l'altro io e mia moglie facciamo parte anche del corteo storico perché in diversi spettacoli non richiedono solo sbandiratori e musici ma anche corteo storico. Siamo una ventina di persone vestite con abiti del tardo medioevo e spigliamo oppure all'occorrenza facciamo anche dei balletti medievali. E so che fate feudo in piazza, mi sembra qualcosa di pieno. Ogni anno facciamo la seconda domenica di giugno il feudo in festa. Ah, feudo in festa. in festa che è la festa degli sbandiratori qua a Busnago. Ho capito. Quest'anno è il nostro venticinquesimo anno per cui la festa è molto più sentita e molto più ricca. Un'altra domenica di giugno 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 Grazie per la visione!